Buongiorno a tutte! Allora, pacchetto o scherzetto? Scherzetto! Dovete sapere che oggi ha suonato alla porta il corriere e le mie gatte si sono precipitate, tutte contente perché è arrivato il corriere, arriva l'ordine, c'è lo scatolone, loro sono rimaste senza scatole. Due erano sul balcone, con quello che è successo ieri si sono inzuppate, non sono più utilizzabili. Altre due scatole che avevo in casa sono state da me requisite come deposito temporaneo di ben 31 vasetti di salsa di pomodoro che ho fatto ieri, quindi loro non avevano più scatole. Hanno detto, c'è il corriere, c'è il pacco Avon, è mio, no è mio, ci vado prima io, non ci vado, eh? E si sono messi a litigare, cosa dice il proverbio? Tra i due litiganti il terzo gode, infatti io godo. Io sono felicissima per questo, non è il pacco con gli ordini, questo è un regalo che Avon fa a me, come ha fatto a tutte le mie colleghe ambassador. Quindi io sono felicissima, le mie gatte no, ma va bene così. Siete curiosi di sapere cosa c'è dentro? Anch'io, lo scopriamo insieme? Allora, lo vogliamo aprire questo meraviglioso pacchetto? Siete curiosi di sapere che cosa c'è? Anch'io d'amate, sono più curiosa di una sciglia. Allora, vengiamo. Wow! Wow! Questo è un nuovo profumo, un nuovo faraway, pazzesco, della famiglia faraway beyond. Uscirà a settembre, quindi oggi è il 28, 29, 30, 31. Venerdì esce, venerdì tutti potrete sentire, conoscere, apprezzare questo meraviglioso profumo. Faraway beyond the moon, sì, perché Avon ci porta sulla luna. E vi assicuro che è buonissimo, io l'ho già provato. Poi vediamo cos'altro c'è dentro. Wow! Ma guardate qui! Un nuovo prodotto della linea Power Stay. Una tinta labbra. E guardate un po', simile al mio lucida labbra, solo che il lucida labbra tra poco non ci sarà più. Invece il Power Stay dura 16 ore. E come i miei orecchini! Eh, ma allora Avon l'ha fatto apposta, è venuta a casa e ha visto che cosa c'era. E ragazzi, sono felicissima, non vedo l'ora di provarlo. E poi vediamo, perché io sento ancora... Wow! Ma qui c'è una cosa... Wow! Una cosa che per me sarà un mai più senza. Che cosa? Poi ve lo spiego, ve lo spiegherò. Un po' di suspense la lascio anche per voi. Va bene? Ci rivediamo. Io intanto vado a provare il mio nuovo tinta labbra. Ciao, ciao! Ciao! Ciao!